Lascia. Vремi con me Siete? Siete con i capelli da me? Io faccio allora quello che voglio. Io bevo. Palazzo. Io faccio quello che voglio, tu sei il mio dipendente, tu direi le chiavi della macchina, le chiavi della mia macchina. Visto che si sta accadendo, si sta accadendo un cattivo fino adesso. C'è ora che fanno abuso, senti l'avvocato, io faccio un abuso e senti l'avvocato. Tu fai un abuso, voi fate un abuso. Tu fai un abuso, voi siete. C'è il mio dipendente, se ti metti inizia, se ti metti inizia, se ti metti inizia, se ti metti inizia, se ti metti inizia. Perché io sono. Grazie a tutti.